La cuffa e i suoi ora potranno mietere il raccolto. Ecco gli strumenti. Sono un po' rovinati, ma ancora resistenti come le zanne di Sobek. Un miracolo! Mi sbagliavo. I simboli non hanno fermato il faraone, ma ci hanno portato te. Un'aquila fra gli avvoltoi. Abbi cura di te e della tua gente, Alakuf. Onora tuo fratello con un raccolto abbondante. Che tu possa sempre sedere a un ricco banchetto. Ci hai salvato la vita e donato la speranza. La maledizione non ci nuocerà più. Tuo fratello ne sarebbe fiero.